Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale Torrette, mercogliano, Avellino. Domani al Biogem di Ariano l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia inaugurale del meeting Le Due Culture. Sarà una visita blindata, quella del Capo dello Stato. Il Comitato per l'Ordine della Sicurezza e lo staff dell'Istituto di Ricerca stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. Il Presidente sarà accolto, oltre che dal Prefetto Tirone, dal Presidente del Biogem Zecchino, dal Presidente della Regione De Luca e dal Presidente della Provincia, Sindaco di Ariano, Gamba Curta. Sarà una visita blindata, nessuno potrà accedere all'area mennea dove è previsto l'atterraggio del delicottero del Presidente. Lì ci sarà il Prefetto Tirone ad accoglierlo con un cordone di Forze dell'Ordine. Il tragitto che l'auto del Capo dello Stato percorrerà sarà messo in sicurezza con un cospicuo di spiegamento di uomini, saranno fin anche chiusi i tombini. Il Presidente Mattarella arriverà intorno alle 16. Sarà ricevuto all'esterno dal Presidente del Biogem Zecchino insieme al Presidente della Regione De Luca e al Presidente della Provincia e Sindaco di Ariano, Gamba Curta. Poi sarà accompagnato per una breve visita dell'Istituto. Alle 16.30 il Presidente Mattarella farà il suo ingresso nell'ottagono per l'apertura del meeting alla presenza delle autorità e degli scienziati e umanisti che si confronteranno sul delicato tema Cosmologia, l'uomo eterno Ulisse nell'infinità dei mondi. Tre leiratori, oltre al Presidente Zecchino, che introdurrà l'evento, Remo Bodei degli University della California e Vincenzo Barone, direttore della Normale di Pisa. La diretta TV, voluta fortemente dall'editore Angelo D'Agostino, sarà prodotta e trasmessa a reti unificate dalle emittenti Prima TV e Telenostra. Come sempre, l'obiettivo del gruppo editoriale è di rendere il miglior servizio possibile sui telespettatori ed utenti web. La diretta avrà inizio a partire dalle ore 16. Sarà possibile fruirne su Prima TV, canale 90, Telenostra, canale 189, primatv.it in streaming e sulla pagina ufficiale di Telenostra, il live Facebook.